Non è che l'aria compressa tu la puoi accelerare, quella è. Una volta che tu gli hai dato tot bar come prestabilito dal disegno tecnico, dall'ufficio tecnico, lui va così, la pressione è in pressione. Non la puoi accelerare, non è che è tipo una ventola che tu fai andare a bassa velocità, a alta velocità. E quindi certe volte si incombe in problematiche del genere. Ora io sto parlando di questa macchina sta andando davanti da sola, come vi sembra ragazzi? E' buona. Grazie.